Stiamo valutando la situazione, abbiamo avuto adesso, proprio in questi giorni, la valutazione dei decreti attuativi. Non è così semplice capire ancora quanti dipendenti sceglieranno questa opzione, perché ricordiamo sempre che è opzionale dei dipendenti andare in meno in pensione utilizzando quota 100 e quale sarà l'impatto poi non tanto in termini di persone, ma in quanto la suddivisione dei diversi settori. 30 secondo lei può essere plausibile comunque? Anche superiore rispetto ai nostri dati, potrebbe arrivare a 35-40 persone rispetto anche al fatto che possono utilizzare l'opzione donna e tanti altri strumenti per avvicinarsi alla pensione. Dobbiamo valutare anche, vedendo i decreti attuativi, quale sarà la modalità di reintegro, se mobilità esterna, mobilità interna, concorso, perché ancora non abbiamo chiara qual è la strada. Siamo un po' preoccupati perché notiamo che molti dipendenti probabilmente utilizzeranno questo strumento e quindi siamo consapevoli che almeno un 6-7% della forza lavoro del nostro comune potrebbe andare via. Considerando le altre professionalità che ci sono, sarà difficile sostituirli in maniera così rapida.